Il rifugio è fiovato! Ritirata! Ritirata! Partito a prendere sulla ferita! Ci provo! Vieni tu, un uomo! Mi serve aiuto, ora! Stiamo perdendo! Carica! Tre, due, uno! Libera! R.P.G! Frost! Frost! Svegliati! Dobbiamo muoverci, ora! Frost! Il disturbatore è 500 metri in alto! Da qui andiamo a piedi! Muoverci! Svegliati! Grazie! Svegliati! Si è troppo cento! Si è troppo cento! ha un altra fine! Diciamo la decisione di comportamento! Ritirata! Volevo! Svegliati! Vi togliere! Poi vi eroedite! Svegliati! Ok, passiamo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.